salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi andiamo a viterbo al gentleman ragazzi perché oggi c'è il gentleman a viterbo quindi ora sono le 8 e 50 appuntamento circa intorno alle 9 in zona piazza del teatro e niente adesso stiamo andando su sembra che stia uscendo anche un po' di sole dopo questa settimana di pioggia intensa infatti come potete vedere l'asfalto è ancora umidiccio e in alcuni tratti bagnato quindi sempre con molta cautela in teoria dovrebbero venire anche altri del gruppo se vengono poi che qui ancora non si accennavano risposte sul gruppo e io sono partito intanto anche perché poi settimana prossima praticamente sarò 10 giorni fuori completamente quindi non avrò modo di fare video e caricare niente quindi bisogna approfittare di queste giornate poi tra l'altro gentleman dovevo andarci l'anno scorso ma poi non mi ricordo perché non ci sono più andato forse ho altri impegni non mi ricordo quindi quest'anno sono libero approfittiamo e scendiamo e ragazzi io direi che ci possiamo anche vedere direttamente appena arriviamo con tutte le moto che ci saranno facciamo un giretto insomma vediamo tanto adesso andremo a fare la cimina ma la farò piano perché raga con sto tempo che ha fatto calcolando che poi la cimina è sempre sempre dico quasi sempre soprattutto la parte dei tornanti quella sottoposco è sempre umida quindi sinceramente non mi va a farmi male quindi me la farò piano tranquillo senza correre troppo e poi comunque ormai la conoscete a memoria la cimina dato che ce l'ho qua dietro casa praticamente la faccio un giorno si e l'altro pure e quindi niente ragazzi ci vediamo direttamente appena arriviamo sopra sopra a Viterbo insomma via all'evento siamo arrivati a Viterbo ragazzi e adesso andiamo a trovare il punto di ritrovo se non andiamo su ci fermiamo ti dico buongiorno io ti do i gadget e ci sta pure un fogliettino che devi dare al furgone nero perché è la cosa è su quello là? esatto ok grazie mille grazie ragazzi famo che stiamo la metto qui hai tutti i colleghi con le Ducati che fanno supporto al Giro ah ottimo grazie buongiorno 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 caro ben trovato per ritiro della foto a fine giro numero zero ok grazie grazie buongiorno buongiorno eccoci qua ragazzi siamo pronti a partire abbiamo appena fatto il briefing e mo tra poco partiamo c'è un bel po' di gente la giornata ragazzi sta diventando spettacolare si è aperto il cielo è uscito il sole proprio che spacca le pietre infatti fa un caldo bestiale è un bel evento ragazzi sta un botto di gente e siamo partiti ci abbiamo un altro compagno di moto mostro 8 e 21 ci abbiamo pure la polizia che ci fa da scorta stiamo con una botte di ferro ragazzi come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un like un commento se volete di attivare la campanellina tanto il prete che salutava grande prete ragazzi guardate quante cazzo di moto so davanti ma pure dietro cioè sono un botto ecco il grande salvo ecco il grande salvo che giornata oh vediamo che sera è l'ho conosciuto stamattina ci siamo scambiati i numeri fotografi c'è sta tutto ragazzi super organizzati da grosseto viene dall'argentario sto ragazzo salvo si è fatta un bel po' di stradina eh salvo ti saluto ciao salvo del futuro lui non lo sa ma quando vedrà il video lo scoprirà tanto sentiamo mia che scoppietta beh senti qua come scoppia beh guardate tanto qui ne passano un po' perchè giocare questo è stato strontato Elementi momento foto e niente adesso facciamo tutto un giro di Viterbo diciamo per i vari quartieri e poi andiamo al concessionario Triumph dove c'è diciamo il punto di ritrovo quindi poi ci vediamo direttamente e qua abbiamo tutti i Triumph grazie Grazie a tutti. Ora ci abbiamo al punto di ristoro. Che spettacolo ragazzi. Ragazzi per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. E al prossimo video. Ciao.